Sindaco, il Comune di Udine ha dato il patrocinio e sostiene fortemente questo primo hackathon dell'Università di Udine che rende protagonisti i giovani nel progettare la città universitaria del futuro. Sì, questa è una cosa importante perché la città di Udine svolge un ruolo con l'università fondamentale, anzi l'università ci aiuta a avere un futuro importante, soprattutto con la presenza di tanti studenti e professori che danno vita alla nostra università. Io penso che Udine diventerà sempre meno una città commerciale, sempre più una città universitaria e degli studi perché aggiungo agli studenti universitari anche i tanti studenti delle scuole superiori che ogni giorno frequentano la nostra città. E poi la presenza di questa università che il popolo friulano ha voluto con tanta determinazione è una cosa importante, io ho grande fiducia proprio nell'università e nell'aiuto che potrà darci a noi che governiamo questa città per renderla sempre più importante per gli studenti e funzionale per la loro presenza qui a Udine.